da ripetere mi hanno suggerito posso dirlo alla regia occulta non posso dirlo non è stato ripreso quindi dicevamo l'ultimo giorno è intervenuta la nostra interprete che ha detto l'ultimo giorno è sicuro adesso possiamo di nuovo con il nostro slogan il nostro motto eccetera eccetera così che il depaticamento è salutare mi dicono mi dicono dalla regia che sta succedendo qualcosa di terribile un'altra milanese a cui chiedere perché perché in vale di pomeriggio scordato quanto conta quanto con la legge della valle la domanda è stata fatta interventa non è capace che caccia qualche parola ai milanese non sappiamo quali ci sono ma dove? ma di che? ma non ho capito la domanda ma di che? ma che è? di che c'è il palestridente in cambio non ho sempre sospettato ma non ti può andare no 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 l'Australia, palesemente notte l'acqua è notte, l'acqua è in Giappone si si, vedo l'acqua scorrere a contraria com'è? come in Polinesia? che ore sono in Polinesia? bene ed è buio anche alle 17.23 17.23, famoso che è l'ora del tempo scusa, infatti, non sapevo questa cosa guarda, non vorrei tostare questo tasto dolente però tostiamo questo tasto dolente che fine ha fatto? tostare questo tocco dolente io non vorrei tastare questo tocco dolente prego che fine ha fatto il piccolato no vabbè, io adesso lo riesco però dopo il special prometto che farò una newsletter o lo metterò su Facebook io prima il special vorrei svelare il giallo il giallo qualcuno ha del giallo? sveliamo il giallo è stato occultato anche il giallo è stato molto stupid il giallo è stato occultato anche il clare ha fatto il nostro amico poi ci siamo sempre io e posso servire e lo c'è fino a fatto c'è fino a fatto cara mensanguere è proprio quello che volevamo chiederti fino a fatto è iniziato per questo è iniziato per questo perché è praticamente duro è iniziato i spese storie con questa storia di Passo Nesse poi, pensi che tutti gli ospiti che lo sono di a te c'è da Alba alle Pannega io dico... Alba alle Pannega Alba alle Pannega Alba alle Pannega è francese perciò io non lo so sa qua di passo ma poi te lasciamo però hanno tutti che c'è almeno 10 ospiti che lo sono di a te c'è ma la mamma c'è la mamma le mamme degli ospiti del Pesca io vorrei dire una cosa sulle mamme degli ospiti del Sveglia vorrei dire una cosa che spero tradurre anzi non la dico, la dici direttamente lei vai cari mamme degli ospiti aspetta aspetta tra un po' tra un po' tra un po' una grande moglie delle mamme come voi certamente io vi sto chiedendo come sia possibile che 30 persone che andare a atticinisco a fare mediazione nel capo a 25 euro come si chiama questa cazzo di meditazione io non l'ho fatta si vede che non l'ho fatta a mediazione come si va a fare mediazione a 25 euro perché una persona da fare a 25 euro a fare mediazione reghi e appicinisco quando io la faccio gratis tutti i giorni si vede da dalla mattina alla sera sempre dalla Francia a Roma dovunque in Valle di Comino lui a gratis quando mi suscretti sono stato in viaggio sono a dire vabbè c'è pure la mediazione reghi capito poi ve lo so 25 euro appicinisco qua che ci fanno 10 persone di cambiare mestiere e devi cambiare mestiere specialmente Vittorio Maciocci prenderà le schiere farai il gommista con il fratello no Giugino non gli voglio lo so qua si vanno le farà pagliazione a 50 euro a tutti no a a baffetta macchiozza a baffetta macchiozza a baffetta macchiozza sei fortunato Vittorio perché non sai che il regista occulto anche del defaticamento tu ieri indossavo una pettina rechi rechi però che recava reicava un vabbè c'è la manetta di Darth Vader Darth Vader Darth Vader Darth Vader chi sa di amici in America non c'è più nessuno in America in Francia io gli chiederei qualcosa perché c'è Darth Vader e non c'è Darth Vader non ce l'avete Darth Vader in Francia non ce l'avete Darth Vader che vuol dire rechi lo chiediamo alla traduttrice e su questo io penso che si possa chiudere per 6 mesi a puntata del defaticamento tour soprattutto con il nostro faremo proprio un giro veloce su tutti i nostri collegamenti dalla strada scuso al nostro motto il defaticamento è salutare da Milano di Comino dalla plancia regia occulta in America ormai è solo una pangera è un grande defaticamento grazie a tutti il profeta occulto profeta occulto la suggerisce perché c'è una prova interrale non so proprio dire perché siamo felicissimi ragioni anzi facciamo di nuovo la cosa però a questo punto vi presenteremo tra voi stringetevi la mano si può fare infatti sei l'unico totalmente in ombra però ecco 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 con mamma, no, 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 non si tratti così un rock and roll, no, no, mamma mamota, perciò ti dico no, affaticare, no, no, non ci andrò, non puoi farlo, questo, non puoi mandare a affaticare un Elvis, se vuoi potreste anche andare a vederci il cinema da fuori così non parliamo, oppure potremmi portarti a scapizzare i topi a lungo male, ti piace giocare a flipper la società, oppure alle macchinette dei puccherielli, oppure potresti accompagnarmi a pisciare il gatto, altrimenti mi fai fare storie con mamma, no, 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 non si tratti così un rock and roll, no, 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 mamma mamota, la munezza non la scelterò, no, 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 manco se mi batterai, ti dico amico, non si tratti così un rock and roll. Io non prendo il sistema.